L'importante blitz dei carabinieri per smattellare quello che per la DDA di Salerno è il rodato sistema di spaccio gestito da Giovanni Maiale Junior detto a minaccia. Secondo l'accusa amministrava, servendosi dei suoi più stretti familiari, un market della droga con una capacità finanziaria di 50.000 euro al mese. Gli arresti all'alba di i carabinieri del comando provinciale di Salerno insieme al reparto territoriale di Ebole hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Maiale. Indagato di associazione per delinquere aggravata al metodo mafioso e finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente. Il GIP Gian Domenico D'Agosino del Tribunale di Salerno ha disposto agli arresti domiciliari per il figlio Michael Gerardi, la convivente Antonella Marotta e la nipote Virginia Di Cunzolo. Obbligo di dimore invece per Mario Del Vecchio, un'altra persona partecipe del gruppo. Sembra che Maiale, avvalendosi dei vincoli di parentela con i vertici dell'omonimo clan, egemone tra gli anni 80 e 90, in particolare con il suo capo storico Giovanni Maiale, aveva allacciato rapporti con i fornitori di droga del quartiere Barra di Napoli, in particolare con Claudia Rizzo, napoletana raggiunta dalla misura degli arresti domiciliari, che risulterebbe essere il fornitore ufficiale al quale si rivolgeva la Di Cunzolo nei viaggi Smart in direzione del capologo partenopeo. Trasferte finalizzate all'acquisto della materia prima, sostiene la procura di Salerno. Grazie a tutti.